E che dovevo fare, scusa? Nome Adam Manuel Cognome Lai Turbe Turbe, mi raccomando E Turbe Il mio nome è Bond James Bond Ruolo Attaccante Prima fidanzata Ehi, mamma Pamela si chiamava Anche la tua? Non mi ricordo, veramente Primo fidanzato? Mamma mia Prima cilecca Che cilecca? Non capisco Sei fedele? Sì, sì, sì Sì, sì Ma come no? Primo ricordo in campo? Da bambino mi ricordo anche tante cose, veramente Primo ricordo in campo? Quando mi portavo papà al campo Partita più bella giocata? Partison Stella Rosso Ehh... River Boca Gol più bello fatto Contro Lazio con la Fiorentina a Firenze Ioic ci fa spazio Da gioco con Liaic Liaic Si gira Liaic E il gol della Fiorentina L'1 a 0 Che ora Lazio? Verona Ecco Partita che vorresti rigiocare? Partison Stella Rosso Ehh... Roma Vajer Adem Caratteristica migliore di Manuel La caratteristica che lo prendo sicuro è la velocità e rapidità Manuel Caratteristica migliore di Adem La calcia... Come fa il stop? Il bambè Manuel ha detto che è una pippa, sei d'accordo? Sei d'accordo? No, no, no Non è vero sicuramente Adem ha detto che è più forte di Maradona Sei d'accordo? No, non ha detto questo Chi è più forte alla Playstation? Non abbiamo giocato ma penso io Non gioco tanto a Playstation Poco poco Compagno più rompi palle Florenzi a parte Florenzi sicuro E Angolan Anche De Santis Tutti quindi Loro tre sono in primi Ciao Sono Alessandro Florenzi Angolan Ciao sono Rajan Angolan Giocatore più forte con cui è giocato Totti e i turbi a parte Liovetic Giocatore più forte con cui ha giocato Totti e gli Aici a parte Lucio Gonzale Al porto Manda un messaggio all'altro Stai pronto Bomber Che continua così perché Penso che questa squadra Ha bisogno di lui Di tutti Vinciamo lo Scudetto? Magari Sì Ciao sono Adam Lai C'è anch'io E Cuccio anche Roma Radio Sì A A A A A A A